Il mondo cambia velocemente. Paisaggi maestosi sono oggi minacciati dal suo riscaldamento climatico, mentre piccole comunità in tutto il mondo sono perturbate da cambiamenti socio-economici e stanno scomparendo lentamente. Mi chiamo Angelo, sono un designer e filmmaker europeo. Sono nato in questo paesino del sud Italia, ma ho vissuto in giro per l'Europa dove ho passato gli ultimi sette anni a usare la tecnologia per progettare prodotti innovativi e raccontare il patrimonio naturale e culturale dell'Italia. Oggi ho deciso di partire per un viaggio di 300 giorni intorno al mondo. Ho sentito il bisogno di vivere in prima persona il rapporto tra l'uomo e la terra, per raccontarlo con una poesia visiva e per indagare come il design e la tecnologia possono migliorare e preservare la diversità del mondo. Seguitemi in una ricerca delle cose più evanescenti sul pianeta che non custodiremo mai abbastanza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.